Ma esiste uno scarpone da trekking che non abbia difetti? E' una domanda che mi sono posto per tanti anni mentre provavo i prodotti e oggi forse l'ho trovato Infatti nella recensione di oggi vedremo i pregi e difetti di questo Zumberland Salaté Trek che vi preannuncio, mi ha veramente stupito Iniziamo come al solito dalla suola perché qui troviamo una suola con una geometria chiamata Pepe e una mescola Megagrip Praticamente troviamo una suola che tiene veramente molto molto bene La mescola Megagrip la conosciamo, ha un'ottima tenuta Io l'ho utilizzata su praticamente tutti i tipi di terreno Quello dove magari fa un pochino di fatica è il fango ma dal punto di vista della grip su roccia è veramente fenomenale Ho avuto modo di utilizzarla su una via ferrata dove ci sono dei tratti in cui c'è della roccia veramente unta, veramente molto scivolosa e non ho avuto nessun problema Davvero come tenuta direi che va bene sul 90% di tutti i terreni il fango è quello dove ogni tanto magari scivola Ma non gliene farei una colpa perché come sappiamo se uno scarpone va bene su roccia non va bene su fango Quindi da questo punto di vista hanno prediletto la roccia e devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro Infine, ultima cosa da aggiungere questa suola Vibram è risuolabile quindi nel momento in cui avrete finito lo scarpone potrete dargli una seconda vita Per quanto riguarda l'intersuola, qui troviamo un'intersuola in eva a doppia densità Questa cosa vuol dire che troviamo un'intersuola veramente molto comodo Ci si possono fare tanti tanti chilometri tante ore di camminata e non vi stancherà il piede Un'intersuola davvero costruito bene e quello che mi piace di più è anche la sua struttura semirigida Questa struttura semirigida gli dà modo di essere uno scarpone praticamente dato per tantissime attività Lo vedremo dopo ma secondo me questa struttura veramente è il cavallo di battaglia di questi salatè E continuando possiamo parlare della parte superiore iniziando dal puntale qui troviamo un puntale abbastanza rigido per intenderci un puntale che se prendiamo a calcio una roccia non sentiremo nessun dolore al piede Tutta la parte di tomaia è scamosciata quindi troviamo una tomaia che è spessa all'incirca un millimetro e mezzo una tomaia che dal suo punto di vista essendo appunto in pelle tiene abbastanza caldo è comunque abbastanza traspirante devo dire anche da questo punto di vista mi ha sorpreso ha un ottimo rapporto tra termicità e traspirabilità e poi quello che mi piace di più è tutto questo bel fascione in gomma che corre a 360 gradi attorno allo scarpone questo fa sì che lo scarpone possa essere veramente molto duraturo perché va a proteggerlo da tutti gli urti aspetto poi non da sottovalutare che su questa tomaia troviamo anche il riflettore recco perfetto per farci trovare dai soccorsi in caso dovessimo smarrirci o avere dei brutti episodi in montagna infine per quanto riguarda la tomaia abbiamo anche una fodera in Gore-Tex che ci permette di tenere asciutto lo scarpone quando passiamo magari qualche ruscello per quanto riguarda la zona del tallone abbiamo un tallone abbastanza alto è un pochino più alto da versione mid quindi diciamo uno scarpone abbastanza alto un tallone però bello strutturato nella parte bassa che sicuramente non ci farà prendere nessuna storta e si destruttura pian piano che si sale fino ad arrivare alla parte superiore della conchiglia che è veramente molto molto morbido e ci asseconda molto bene sia quando camminiamo magari su un pendio bello verticale che quando camminiamo anche in laterale qui devo dire anche dal punto di vista del tallone è fatto molto bene allacciatura e linguetta qui troviamo una linguetta molto classica ben imbottita che svolge veramente molto bene il proprio lavoro e troviamo un'allacciatura che mi è piaciuta molto perché arriva fino in punta allo scarpone cioè veramente ancora un centimetro e sarebbe stato proprio sull'estremità della punta quindi veramente arriva ben in fondo ci permette di avere una calzata ottima dunque da questo punto di vista anche allacciatura e linguetta molto molto bene per quanto riguarda la grandezza in sé dell'avampiede qui troviamo un avampiede che è abbastanza classico non troviamo un avampiede particolarmente stretto e nemmeno troppo ampio io devo dire che ho preso il mio solito numero che prendo su tanti altri tipi di scarponi e essermi trovato molto bene nonostante ciò sulla parte anteriore comunque va a ristricarsi in modo tale da avere un'ottima precisione nel momento in cui andiamo su qualche appoggio ma arriviamo dunque a capire dove vi consiglio utilizzare questi scarponi e a chi li consiglio io li consiglierei praticamente a tutti secondo me sono l'ideale soprattutto per chi magari ha le prime armi e sta cercando uno scarpone con cui fare un po' di tutto perché è uno scarpone con il quale si può andare a fare dei trekking facili dei trekking impegnativi anche di più giorni dei trekking anche ad alta quota su sfasciumi eccetera non è ramporabile quindi non fateci alpinismo mi raccomando per quanto riguarda la roccia anche lì molto bene ci si può fare delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati senza nessun problema è veramente uno scarpone a 360 gradi per quanto riguarda tutto il mondo del trekking e dove andrà ad utilizzarlo come vi ho detto praticamente ovunque l'unico punto in cui a fare un pochino di attenzione è quando troviamo davvero tanto tanto fango che come vi ho detto la suola è pesata più per la roccia che per il fango dato ciò arriviamo alle conclusioni per questo Zumberland Salaté Trek innanzitutto il prezzo viene venduto sui 275 euro sul sito ufficiale di Zumberland online si trova sui 230 euro ve lo consiglio assolutamente sì questo è il primo scarpone che provo da quando ho aperto il canale che non ha nessun difetto veramente è il primo scarpone che vi dico ragazzi compratelo se volete farci un po' di tutto se volete spendere una cifra ed essere sicuri che vi durerà anni che possa essere anche risuolato, rimesso a posto se si hanno dei problemi uno scarpone poi anche made in Italy quindi anche da questo punto di vista direi ottimo uno scarpone praticamente un po' per tutto quindi sì, è davvero il primo scarpone che mi piace in tutti i suoi ambiti e detto ciò io ho speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima ciao